Cerchiamo sempre delle idee per fare il nuovo fatturato, tutti cercano di portare le loro esperienze per avere quegli articoli che possono aiutare a vendere più, quindi dagli agenti che ci possono dare degli input, a noi che abbiamo, ai buyer, tutti cercano di portare quel qualcosa in più, per trovare l'articolo giusto che possa fare a quel fatturato, quindi è sempre poco vivo la ricerca di articoli interessanti, posso dire queste idee sono quelle che fanno quelle vendite in più che poi ci aiutano a portare il risultato positivo, ma purtroppo devo anche dire che non tutte le ciambelle riescono col buco, quindi a volte nella foga di portare l'articolo giusto si porta al flop, si porta un articolo che proprio lo fanno, quindi in maniera simbolica abbiamo preso un articolo per tutti, vogliamo premiare chi sia esposto presentando questo articolo come la panacea del fatturato. signori andiamo sul banco Bolzani Graziano Premio Re del Tostone 2013 ecco la panacea del torno, comunque posso dire che un flop ci sta dentro tante successe, va bene? sì, io lo ringrazio e lo divido con Luca Cappelletto ottimo, ottimo ok bravo